Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video nel quale vedremo la classifica personale di tutte le armi che ho nella mia collezione per quanto riguarda il grilletto. Vedremo l'arma, la pistola con il peggior grilletto della mia collezione e la pistola con il miglior grilletto. Tutto strettamente personale. Qualche premessina prima di iniziare. Perdonate la qualità del video, soprattutto l'illuminazione di questo video è molto molto buia. C'è di meglio, c'è sicuramente di peggio. Non dico che faccia cagare, però si può sempre migliorare. Vi avvisavo di questo. Stessa cosa per quanto riguarda l'audio. È tutto registrato in presa diretta dall'iPhone senza il minimo taglio. Quindi spero che vada tutto diciamo abbastanza bene. Altra premessina. Trovate qua nella barra diciamo di avanzamento nel video segnati i capitoli con tutte le pistole. Se volete saltarvi le mie parole, anche se probabilmente lo avete già fatto se sapete fare questa cosa. Purtroppo nella barra sono segnati i numeri delle pistole, quindi sarà spoiler per voi. Però capisco che alcune persone cliccheranno su questo video e se lo vedranno tutto velocemente in 10 secondi giusto per vedere la classifica. Ultima premessina ragazzi. Anzi, ultime due premessine. Scusate se ci metto più del previsto. Se siete interessati alle recensioni di tutte le repliche che mostro, cercate qua sotto in descrizione. Perché tutte le repliche hanno almeno 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 5 video realizzati a riguardo recensione, prova di tiro, smontaggio, eccetera eccetera eccetera. Tutto trovate qua sotto in descrizione. Cercate il nome della pistola e cliccate sul link desiderato. Ultima cosa prima di partire. Fatemi voi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa classifica. Fatemi voi la vostra personale classifica tra le repliche che avete o anche che non avete. del miglior grilletto in questo caso. Proviamo un attimo a scoprire quale potrebbe essere la miglior pistola da comprare nel software. Ok, partiamo subito con questa classifica. Classifica che prende in esame solo il feeling del grilletto dell'arma. Quindi assolutamente non le performance. Quindi magari l'arma ha il grilletto migliore che esista e spara di merda. Però appunto in questo video parliamo solo dei grilletti. Magari anche l'arma spara bene però è un grilletto di merda. All'ultimo posto il grilletto peggiore tra tutte le mie pistole è quello della Samurai Edge. Un grilletto con fin troppi giochi e molto ballerino nell'operazione. Proprio un'esperienza anche difficile da spiegare. È particolare, è solo particolare l'unica cosa che mi viene da dire. Molto ballerino, molto insicuro, l'operazione non è il massimo. Per questo ho deciso di metterlo all'ultimo posto. Diciamo che ogni volta che sparate con questa pistola il feeling è quello che non sparerà, sinceramente. Uno dei peggiori, anzi il peggiore della mia collezione. Ah, piccola parentesi. Questa classifica, al contrario delle altre classifiche che ho fatto, vede proprio divise le pistole. Cioè, fino a un certo punto ci sono dei grilletti che non consiglio di acquistare in game. Non è come magari la classifica degli old open dove più o meno tutti gli old open si potevano utilizzare in game. Il grilletto di quest'arma non è da utilizzare in game, secondo me ragazzi è un po' troppo ballerino. Come non è, secondo me, da utilizzare in game il grilletto di quest'arma. Per il semplice motivo che è fatto da un pezzo unico in plastica. Questo grilletto anch'esso è molto ballerino nell'operazione, è anche parecchio elastico. Cioè, anche qua vi darà molta incertezza quando andate ad operare. Soprattutto in doppiazione. Molto scattoso. Secondo me non è il massimo. Poi magari alcuni di voi avranno preferenze diverse e diranno che questo è un ottimo grilletto. Però, diciamo che in confronto alle altre pistole che ho nella mia collezione, questo non è proprio il massimo. Tassellino sopra, anche se siamo sempre lì per le prossime due pistole che arriveranno. Questa è la M45-1. Poi abbiamo la Colt, ragazzi. Queste pistole hanno lo stesso identico grilletto. Stampato, identico, stessa operazione. Grilletto ad azione singola. Una corsa molto piccola, però molto indeciso anche qua nella sua operazione. Un po' duro, non sempre chiaro. Non restituisce proprio l'esperienza che cercherei nel grilletto di una persona da Softair. Poi se volete usarla nel poligono, nei tiri rapidi e così, ancora peggio. Quindi questi grilletti sono sì meglio degli altri due che vi ho mostrato, però risultano sempre molto molto schifosi. Se li ho messi insieme, diciamo che hanno una posizione proprio a pari merito, perché sono la stessa pistola. Se proprio vogliamo, il grilletto della M45 è leggermente peggiore rispetto a quello della 1911, per qualche ragione. Però voi consideratele come se fossero la stessa pistola. Dopodiché abbiamo un grilletto abbastanza schifoso. Anche qua, meglio di quelli che abbiamo visto finora, però comunque abbastanza schifoso, soprattutto a doppiazione. È un grilletto che ho messo più in alto rispetto alle altre armi perché è molto leggero, però ha un funzionamento e anche una curvatura particolare che non giova, diciamo, nell'utilizzo in game. È un'esperienza anche qua molto scattosa, molto particolare che vi consiglio di non fare. Chiaramente, ragazzi, non bocciate le armi che magari volete aggiungere alla vostra collezione solo per il grilletto. Io vi sto solo dicendo la mia personal opinione. Poi abbiamo un grilletto leggermente migliore, ma proprio una spannetta. In realtà sono praticamente lo stesso grilletto per la M9A3. esperienza molto scattosa, molto insicura nello sparare. Anche qua vale per questa, come per tutte le armi che abbiamo visto finora. Non è un grilletto che consiglierei nel suo stile perché appunto quando l'andate a premere, almeno per me, la sensazione è sempre quella che l'arma non sparerà, tanto che è scattoso. Questo è un po' migliore rispetto agli altri grilletti perché avevamo ampio spazio, una curvatura molto, molto bella e anche in doppiazione abbiamo un... Adesso non mi viene in mente il termine tecnico, diciamo, una distanza di azionamento del grilletto buona. Però diciamo in generale, soprattutto in doppiazione, questo grilletto fa abbastanza schifo. Dopodiché iniziamo a salire, con le ultime 5 pistole della mia collezione, su grilletti che iniziano ad essere, secondo me, consigliati per il software. Al quinto posto della mia classifica c'è la USP, in questo caso in variante 45. È un grilletto particolare perché ha una curvatura appunto particolare, molto spesso come grilletto. Però devo dire, ragazzi, che per quello che fa funziona egregiamente, non ha particolari scatti. È vero che c'è di meglio, però c'è anche di peggio. Questo, secondo me, è il primo grilletto sufficiente per quanto riguarda l'utilizzo in game. Poi, ragazzi, è chiaro che, oltre al grilletto, ripeto, dovete considerare anche molte altre caratteristiche. Però, proprio solo parlando di grilletto, secondo me, questo è il primo grilletto, tra quelli visti finora, ad essere sufficiente per l'utilizzo in game. Quindi, poi fatemi sapere sempre la vostra nei commenti. Dopodiché troviamo un grilletto molto particolare, al quarto posto, quello della 5-7. È molto particolare perché è un grilletto dritto. Questo è molto bello come grilletto perché ha un funzionamento. Intanto in sottofondo ci stanno chiamando in casa, perché ovviamente quando si registra sempre ci sono chiamate e varie cose. Lasciatele, ignoratele come le sto ignorando io. Qui abbiamo un grilletto dritto, però molto particolare perché ha un'operazione assolutamente fluidissima. Guardate un po' quando viene ingangiato il grilletto rispetto alla sua corsa. Molto, molto comodo, molto fluido e anche molto leggero da premere. Quest'arma, ragazzi, ha un grilletto molto piacevole da utilizzare. Consigliatissimo. E ora entriamo in top 3, in quelli che secondo me sono i tre migliori grilletti che ho sulle mie repliche e che consiglio a tutti di utilizzare in game. La prima, il primo grilletto, è quello della FNS9. È un grilletto in plastica, ha due, diciamo, assicura sul grilletto come quello della Glock. Ragazzi, è pura poesia da utilizzare questo grilletto. È duro il giusto e ha uno scatto molto deciso quando andiamo a sparare. Vi assicuro che questo grilletto è vero che è più duro di altri grilletti che abbiamo visto anche finora in classifica o anche altri grilletti che ho nella mia collezione, però proprio il feeling dell'operazione di questo grilletto è fantastico. È davvero una cosa che va assolutamente provata. L'ho messo al terzo posto tra tutti quelli delle mie pistole. Dopodiché troviamo, e non a sorpresa, il grilletto della Glock 17. Questa, ragazzi, c'è un motivo se è una classifica personale. A me piacciono molto le pistole ad azione singola. Infatti, diciamo, la parte alta di questa classifica per adesso è tutta dominata da queste pistole qua. Questo grilletto, il grilletto della Glock, è fantastico perché è duro il giusto, però una volta raggiunto il suo scalino lo scatto diventa assolutamente fantastico. Anche qua è difficile da esprimere a parole il perché secondo me questo grilletto è buonissimo. Diciamo che proprio quando ci andate a sparare, il grilletto vi dà una sicurezza che altre repliche non vi danno. Proprio per parlarne proprio in due parole. Poi chiaramente la gente nei commenti mi farà sapere, magari voi riuscite a trovare le parole perché questo grilletto è così in alto nella classifica. Poi, ragazzi, ci sono persone che odiano, diciamo, le pistole ad azione singola e che pensano che il grilletto della Glock faccia gagare. Però io diciamo che, pur non essendo tutto sto fan estremo della Glock, penso che il suo grilletto sia ottimo. E al primo posto troviamo, non a sorpresa, la CZ-605 SP-01. Ragazzi, questa è una delle migliori pistole che ho, come dico sempre nei video. Allora, vogliamo davvero parlare del suo grilletto, ragazzi? Innanzitutto è l'unico grilletto cromato che ho nella mia collezione. Un metallo lucido molto piacevole al tatto con una curvatura, secondo me, perfetta. È proprio liscissimo. Si impugna che è una meraviglia. In doppia azione non è, diciamo, così soddisfacente come altri grilletti a doppia azione, però risulta comunque fluido, ma ad azione singola diventa una roba incredibile. Un funzionamento estremamente sensibile, guardate qua che non c'è il minimo scalino e vi assicuro che è molto facile da premere, è preciso in tutti gli scatti che fa. Questo grilletto, ragazzi, è pura poesia. Davvero pura poesia. Che insieme all'ergonomia dell'arma lo rendono praticamente una cosa incredibile. Non ci sono molte altre parole per descriverla, ragazzi. Questa, come dico sempre nei miei video, secondo me, è la pistola più consigliata per adesso da utilizzare in game tra tutte le pistole che possiedo e ci sarà un motivo. Perfetto. Questo in realtà è tutto quello che avevo da dirvi per questo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se il video non vi è piaciuto e discutiamo insieme nei commenti quale secondo voi è la pistola con il minuto del grilletto in assoluto. A me non resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.